Catturato una città di un albanese di 36 anni a Policoro che si era sottratto all'approvedimento di custode a cautelare nell'ambito dell'operazione Culmi per traffico internazionale di stupefacenti. A Matera in acquistura con un taglierino dopo le minacce alla moglie è arrestato. Nella città dei Sassi l'asilo Onido e il Tiglio 2 a rischio chiusura all'appello delle mamme. Ecoblizze di lega ambiente sulla spiaggia scomparsa di Metaponto. Saldi dalla primo di agosto e la commento della presidente di Confcommercio Basilicata. Bene ritrovati dalla redazione dell'ATRM Giornale come di consueto. Prima di partire ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario tra poco. Catturato un albanese e arrestati due favoreggiatori nell'ambito dell'operazione Culmi per traffico internazionale di stupefacenti. E' stato arrestato in territorio di Policoro dopo essere sfuggito quattro giorni fa la cattura, nascondendosi lungo le rive del fiume Agri tra la vegetazione aiutato da due connazionali che gli portavano del cibo. Il narcotrafficante albanese Bledar Almucca di 36 anni è stato arrestato nell'ambito dell'operazione Culmi della DIA di Bari, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari con la Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana. Il narcotrafficante albanese Bledar Almucca di 36 anni è stato arrestato nell'ambito dell'operazione Culmi della DIA di Bari, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari con la Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana, Interpol e Eurojust che il 30 giugno ha portato all'esecuzione di 37 arresti in Italia e in Albania per traffico trasnazionale di droga. Alla cattura di Almuccano proceduto gli uomini della DIA di carabinieri cacciatori della Puglia. Si era nascosto in un rifugio di fortuna in una zona molto impervia dell'entroterra Lucano. Ed è lì che è stato scovato, arrestato e condotto nel carcere di Matera. Contestualmente sono stati arrestati in flagranza per favoreggiamento personale altri due cittadini albanesi di 30 e 23 anni e entrambi incensurati e regolarmente residenti in provincia di Matera, responsabili di aver agevolato il connazionale fornendogli viveri di conforto e supporto logistico. Ai due sono stati concessi gli arresti domiciliari. Ancora con la cronaca, giunto in questura Matera armato di un taglierino dopo aver scoperto che la moglie è stanca delle continue vessazioni psicologiche e fisiche subite da anni e i figli non erano più in casa, meno una struttura protetta. Un uomo di 35 anni immigrato dall'est Europa è stato arrestato con le accuse di maltrattamento in famiglia, resistenza pubblico ufficiale e detenzione di arma. La donna si è rivolta alla polizia terrorizzata per le minacce del marito. L'uomo è giunto in prefettura mentre la donna e i figli venivano traferiti in una struttura protetta e ha minacciato di farsi del male con il coltello. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e l'hanno arrestato. Parliamo di autismo. C'è stato un sit-in a Policoro. Purtroppo questo Covid è peggiorato tantissimo e quindi sarò costretta a settembre a portarlo in Puglia e immaginate il cuore di una mamma separarsi da un figlio. Anna Padula è di Policoro ed è mamma di Lorenzo, un ragazzo autistico di 13 anni. Anna da diversi mesi si è fatta spontanea portavoce di una problematica che molti genitori come lei affrontano nel quotidiano ma che nello stesso tempo sembra essere ingoiata nella spirale dell'indifferenza, della burocrazia e dell'invisibilità. Una problematica che è diventata ancora più grande durante l'emergenza Covid quando il mondo si è fermato per tutti ma ancora di più per chi ha bisogno ogni istante di attenzione e di cure. Anna ha trasformato la sua nella voce di tanti genitori come lei fino ad organizzare un sit-in davanti a un luogo simbolo. La casa dopo di noi di Policoro, terminata nel 2014 ma mai inaugurata e mai entrata in funzione. Tra i presenti c'era anche Antonio Riggio, presidente dell'associazione Autismo in Movimento che presto nascerà anche a Scanzano. Riggio è arrivato a Policoro da Palermo. La struttura è una bellissima struttura e sono felice che è stata realizzata perché questa è una struttura dopo di noi e dovrebbe accogliere i disabili gravi quando i genitori non ci saranno più e hanno fatto benissimo a farla. Però purtroppo è da sei anni ferma e abbandonata. Infatti si vede lo stato di degrado in cui è tenuta la struttura. Allora, quello che chiedo io è giusto che ci sia una struttura dopo di noi ma c'è anche bisogno di una struttura durante. Cioè io ho bisogno di aiuto anche adesso con mio figlio. Non devo aspettare che magari possa morire oppure che magari mi ammali per portarlo qui. Si fa portavoce di una platea di quante persone? Più o meno per farci capire i numeri del problema. Io ho fatto un gruppo WhatsApp e siamo arrivati già a venti solo tra Scanzano, Policoro e Nuova Siri come mamme. Però ce ne sono altre perché ne ho scoperto un'altra Melfi che non è potuta venire perché il figlio è grande e non sapeva a che lasciare. C'è un'altra mamma di Ferrandina che è qui eppure ha figlio di vent'anni. C'è un'altra mamma che è venuta da Potenza, c'è un'altra che è venuta da Valsini. C'è qui, ce ne sono tanti. A livello regionale, se non stanziano dei fondi per la realizzazione di strutture oppure la convenzione per mantenere queste strutture, non si può fare niente. E a rischio chiusura l'asilo nido Il Tiglio 2 a Matera, l'appello delle mamme. Costi troppo elevati, riduzione del numero di bambini per educatrice e per struttura. Queste le motivazioni che dal prossimo settembre potrebbero impedire la riapertura delle due sedi dell'asilo nido Il Tiglio a Matera. I due complessi scolastici situati, il primo in Piazzetta Antonio Vivaldi nel quartiere Aquarium e il secondo in Via Donato Bramante, avevano interrotto la loro attività a causa dell'emergenza sanitaria dallo scorso 5 marzo. Ora però il futuro di questi due complessi si fa nebuloso. Secondo 13 mamme, firmatari di una lettera indirizzata al sindaco della città dei Sassi, Raffaello De Ruggeri, i bambini dei due edifici scolastici hanno già sofferto, a causa dell'interruzione delle attività, gli effetti della mancanza di socialità, relazioni e affetti, con conseguenze anche sui genitori, che si sono visti costretti alla riduzione delle attività lavorative. L'ipotesi della definitiva chiusura delle due sedi del Tiglio sta facendo aumentare la preoccupazione dei genitori. Dopo un incontro tra questi e la direzione dell'asilo è emersa la quasi impossibilità di riapertura. L'ufficio dei servizi sociali del comune, si legge nella lettera, ha declinato le responsabilità sulla questione, lasciando le famiglie in preda all'incertezza. Chiediamo una risposta alle nostre domande, scrivono ancora le mamme, in modo tale che la comunità si faccia carico delle esigenze dei più piccoli. L'obiettivo è trovare, assieme alle istituzioni, una soluzione che possa permettere ai bambini di ritrovarsi insieme alle proprie affezionate educatrici, senza che venga sconvolto il loro percorso. La pagina legata all'emergenza coronavirus, sono risultati tutti negativi, i risultati dei 229 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dalla Task Force regionale, restano due contagiati confermati in regione, entrambi i pazienti sono in isolamento domiciliare, con 371 persone guarite dal Covid-19 e 27 vittime. Nel confermare che nessun paziente è ricoverato presso le strutture ospedaliere Lucane, la Task Force ha precisato che dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 40.562 tamponi. Prossimo aggiornamento nella giornata di lunedì. E adesso con l'ecoblizza di Lega Ambiente tenutosi sulla spiaggia scomparsa di Metaponto. La regione Basilicata, secondo i dati Terna, la 2018 consuma circa 3.148 gigawatt all'ora di energia elettrica, di cui 2.849,9 prodotti da fonti rinnovabili pari alla 90,5% dei consumi totali. Tra le fonti rinnovabili la tecnologia che gioca il ruolo principale è l'eolico, in grado di produrre il 74,5% dell'energia da fonti rinnovabili. Eppure la stessa Basilicata è la principale regione in cui viene estratta la maggioranza delle risorse petrolifere italiane. Secondo i dati del Ministero per lo Sviluppo Economico, qui è stato estratto il 30% del gas fossile estratto in Italia e il 77,4% del petrolio. La combustione delle fonti fossile è responsabile di oltre l'80% del totale delle emissioni climalteranti, mentre il cambiamento climatico è una delle concause dell'erosione costiera. La Basilicata, in tal senso, è una delle regioni più colpite in Italia. Per questo attivisti e attiviste di Lega Ambiente, rete degli studi medi, si sono ritrovati sulla spiaggia, si potrebbe dire scomparsa di Metaponto, in occasione dell'inizio della seconda tappa della Goletta Verde 2020. Le concause, dicono l'Alega Ambiente, sono da ricercare nell'aumento della cementificazione della costa, nell'incremento degli sbarramenti e dei prelievi di inerti a monte. Nelle opere inutili, dicono ancora spesso sbagliate a mare, che salvano tratti di spiaggia spostando il problema su altri. Ma il riscaldamento globale è un fattore decisivo nella recrudescenza del fenomeno, quindi per fermare l'erosione costiera è indispensabile mettere in atto azioni concrete per diminuire l'emissione di gas R e tenere sotto controllo l'aumento delle temperature. Inoltre, durante i mesi del lockdown, dicono, è stato chiaro quanto la crisi sanitaria sia legata a doppio filo alla crisi climatica, che influendo sull'idebolimento degli ecosistemi naturali, ne riduce drasticamente la loro capacità di mitigazione dell'azione degli elementi patogeni. Parliamo ancora di erosione costiera, perché riapre il lido di terzo Madonna a Scanzano Ionico. Sentiamo. Tra le storie di ripartenza del dopo Covid-19 ce ne sono alcune emblematiche, perché hanno vissuto momenti di difficoltà non solo legate al lockdown, ma che la quarantena, con la stagione estiva appena cominciata, si ritorna con forza a parlare dei lavoratori del settore balneare, che, per la verità, in diverse parti della Basilicata e non solo, sono costretti a fare i conti con situazioni che non conoscono stagioni o anni, ma che vanno avanti da tanto, troppo tempo. Stiamo parlando dell'erosione costiera, che in diversi punti della regione raggiunge livelli preoccupanti, da sempre denunciati e mai risolti veramente. Alla fine del maggio scorso, il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, ha predisposto un programma per combattere proprio l'erosione delle coste e, nell'ambito della delega sul dissesto idrogeologico, ha nominato il soggetto attuatore. E intanto i lidi riaprono, come quello di Terzo Madonna, a Scanzano Ionico, luogo simbolo di queste problematiche. Diciamo, ci crediamo in questa situazione per quanto riguarda il turismo e lo facciamo con piacere. Cercheremo di farlo anche in appresso. Nonostante tutto, vi ripeto, quest'anno abbiamo deciso di non aprire per lo spazio, però, diciamo, siamo riusciti a farlo. E speriamo solo di farlo bene. Dal 2011 in poi, da quando lei gestisce questo lido, che è un po' un lido storico, da quello che ho capito, qui a Scanzano Ionico, a Terzo Madonna, ha visto il mare piano piano scavare sempre di più. Però, diciamo che alla dinamicità del mare si è contrapposta la staticità invece di chi doveva risolverlo, il problema, soprattutto, devo dire, a livello istituzionale. Sì, in effetti, diciamo, c'erano circa 150-200 metri di spiaggia qui, che negli anni è andata via. Praticamente sono venuti, diciamo, nel passaggio, diciamo, che si interessano di queste situazioni, però hanno fatto solo delle passerelle fino a oggi, però realmente non hanno risolto nessun problema, tranne questi massi che vedete, perché avrebbe mangiato anche la strada. Ci auguriamo soltanto che questi attuali politici regionali capiscano veramente il problema, noi ce l'auguriamo e ci diano una mano a tenere in piedi questo posto. L'Unione Sindacale di Base sosterrà le vertenze dei lavoratori della Ferrosud S.P.A., un'azienda, scrive l'USB, colpita da anni di mala gestione e per la quale è necessario un rilancio che ne valorizzi le professionalità e la faccia diventare nuovamente il fiore all'occhiello del mezzogiorno. L'Unione Sindacale di Base è pronta a lottare per e con i lavoratori ormai stanchi delle politiche sindacali portate avanti dalle altre sigle presenti in azienda affinché possano recuperare diritti e dignità lavorativa e che meritano risposte anche dalla governance locale nazionale. Venerdì in piazza Matteotti a Potenza quinto appuntamento con la campagna 26 centesimi di democrazia promossa dal segretario dei radicali Lucani Maurizio Bolognetti con l'obiettivo di eliminare la tassa di occupazione del suolo pubblico per le manifestazioni politiche ritenuta in contrasto con l'articolo 17 della Costituzione. Titolo del sit-in, Beppe Teladoio, la Cina dedicata alle relazioni tra il Movimento 5 Stelle e il Governo asiatico aumentano intanto le adesioni di carattere istituzionale sul tema registrato nelle ultime settimane tra gli altri il senatore Lucano una interrogazione al ministro Giuseppe Gualtieri medesimo atto del consigliere comunale di Milano Alessandro De Chirico in precedenza supporto all'iniziativa dal senatore Lucano Giuseppe Moles Lanci Basilicata e il consigliere regionale Mario Polese deciderò se riprendere lo sciopero della fame ha dichiarato Bolognetti per dare forza alla lotta su diritti e democrazia. Si volta pagina saldi dal primo di agosto e la commento del presidente di Confcommercio Basilicata. La festa della Bruna coincideva in Basilicata anche con l'inizio dei saldi rimandati quest'anno al primo agosto la categoria su questo è divisa? Sì, è completamente divisa come è giusto che sia perché sai non si riesce poi ad adottare dei provvedimenti che già di per sé sono arrivati con grande ritardo non certo per colpa degli imprenditori la regione che poi ricordo era solo la Basilicata e la Sicilia che era rimasta fuori da questa possibilità di proroga. Per una serie di vicissitudini diciamo che sono stati casuali o qualcuni voluti che è antipaticissimo episodio di beghe interne politiche hanno fatto sì che il presidente abbia firmato questo provvedimento a mezzanotte dell'uno è chiaro c'è stato un fuggi fuggi generale dico che non tutti sono d'accordo così come in tutte le famiglie ci sono sempre le due scuole di pensiero la scuola di pensiero degli esasperati di chi voleva in qualche maniera partire subito con i saldi e invece la scuola di pensiero di chi diceva dopo tre mesi di letargo se attacchiamo con i saldi facciamo prima a spararci perché commercialmente sicuramente non può essere il saldo portatore di beneficio allora è stato questo un motivo che dal governo centrale attenzione non è stata né l'associazione di categoria della Basilicata né il governo regionale della Basilicata ma l'input è arrivato dal governo nazionale tutte le regioni hanno adeguato questo input eccetto Basilicata e Sicilia si sono adeguate è chiaro e sottolineo è chiaro che nel momento in cui questa possibilità questa concorrenza a volte sleale di gente che non è rispettosa delle norme c'è gente in questa città che il saldo l'inizio il primo gennaio e lo finisce il 31 di dicembre nell'arco dell'anno è sempre un saldo perché chi può in qualche maniera andare a controllare purtroppo non lo fa però a prescindere dalla concorrenza nella stragrande maggioranza dei casi sleale la categoria è chiaramente divisa c'è chi vuole il saldo subito e chi ha preferito averlo ad agosto credo che cambi molto poco perché anche la stagione dei saldi credo non sarà una panacea non sarà quell'ancora di salvezza negli ultimi due anni negli ultimi confermano quello che sto per dirvi il saldo sia quello invernale che quello estivo non ha mai rappresentato quella voglia di saldo che c'era 4, 5, 6 anni fa a Matera è stata affidata la gestione dei servizi di custodia e fruibilità della Pala Lanera Giannino Grieco dello stadio 21 Settembre Franco Salerno e dei campi sportivi della zona Pipe 1 andate deserte invece le manifestazioni di interesse per la tensostruttura di Via dei Sanniti del Campo Scuola di Atletica Leggera dei campi da tennis di Viale delle Nazioni Unite e della Pala Sassi la società sportiva dilettantistica Matera Sport Academy garantirà i servizi relativi alla Pala Lanera la società football club Matera si occuperà dello stadio 21 Settembre mentre l'associazione sportiva Mateola assicurerà la fruibilità dei campi del Pipe a partire dalla primo termine dei lavori di riqualificazione dell'impianto che procedono con il rifacimento del manto erboso gli uffici stanno predisponendo un nuovo bando spiega l'assessore allo sport Giuseppe Tragni per gli impianti non assegnati che in ogni caso continueranno ad essere fruibili Basilicata terra di sport e salute tutti i presidenti delle società incontrano il governatore Lucano Vito Bardi un esito molto positivo devo dire il presidente ha dimostrato grande sensibilità rispetto alle istanze che gli abbiamo rappresentato stamattina abbiamo parlato di un progetto che abbiamo denominato Basilicata terra di sport e salute un progetto che per noi è fondamentale riprende la passione di ognuno di noi di ogni presidente delle sei discipline a livello nazionale che erano qui tutti insieme uniti e mai più che convinti come stamattina nel presentare al presidente Bardi un approccio nuovo innovativo concreto passionale volto a rimodulare le istanze dello sport e coniugato con il nostro territorio un territorio che oltre alla curva epidemiologica positiva ha delle bellezze inestimabili e tra queste anche la passione dei suoi abitanti noi come presidenti delle società sportive che espritano campionati nazionali quindi sentiamo la responsabilità tutta di poter garantire un progetto il concetto della Basilicata terra di sport e salute per l'appunto in tutte le altre regioni mai come in questo momento e mai con la consapevolezza e la responsabilità che i progetti sportivi non siano soltanto rivolti allo sport ma siano dei formidabili strumenti di inclusione sociale e di promozione territoriale non è un contributo non è un'assistenza quella che chiediamo alla regione non è quella dei soldi quindi se la domanda andasse nella direzione di momento giusto al posto giusto per chiedere un contributo è sbagliato noi dobbiamo cambiare verso dobbiamo essere capaci di introdurre anche degli approcci di qualità si costruiscono con dei progetti Unitalsi torna su TRM Network Passi di Speranza Passi di Speranza è il titolo di una produzione audiovisiva realizzata dalla Presidenza Nazionale Unitalsi che con cadenza settimanale racconterà la vita dell'associazione in questo tempo particolare Passi di Speranza dunque rappresenta una occasione per dare voce all'impegno quotidiano dei volontari impegnati nelle diverse regioni insieme ad altre realtà sociali nel sostenere i bisogni degli ultimi in particolare dei malati andiamo subito a scoprire il sommario di questa ottava puntata in primo fi la giornata nazionale Unitalsi in programma per il 4 e 5 luglio prossimo Papa Francesco ha donato una bicicletta elettrica all'Unitalsi Romana Laziale per portare in pellegrinaggio all'Urd i bimbi del reparto oncologico del Policlinico Gemelli interviste volontari della sezione Calabrese che hanno organizzato l'iniziativa del Rosario Intinerante la Luna una delle perle dell'iconografia dell'Immacolata Concezione Questi sono solo alcuni degli argomenti in scaletta per questa puntata Intanto oggi nuova puntata nel TGH24 Magazine su TRM Network Nuovo numero del Magazine settimanale di TRM H24 ci accompagnerà come di consueto il sabato alle 17.30 21 e mezzanotte e domenica alle 7 e alle 15 con i principali fatti accaduti nelle province lucane e pugliesi questa settimana a partire dalle iniziative dell'estate sempre più rovente sia in città che al mare passando per la novità rappresentata dall'ok dei soci votantari alla trasformazione in società per azioni notizia accolta con soddisfazione pure dal Premier Conte che in un post su Facebook coglie l'occasione per ricordare che anche la trattativa tra Invitalia e Arcelor Mittal per una nuova governance dell'Exilva è entrata nel vivo per la cronaca molte le operazioni di pulizia in questa settimana che hanno fatto scalpore da quella antidroga sull'asse italo-albanese a quella che ha portato a 29 misure cautelari per un'associazione criminale con base nel materano a Bernalda poi poi c'è la festa della Bruna santa protettrice dei cittadini dei sassi destinata anni nella memoria dei materani un'edizione intima religiosa a causa delle ordinanze anti-pandemia come di consueto è possibile seguire la rubrica anche sul canale youtube di TRMH24 o in versione podcast tutte le info sono sul sito trmtv.it e insieme ai primi turisti a Matera si rivedono anche i VIP con una foto pubblicata su facebook il cantatore bolognese Gianni Morandi accompagnato dalla moglie Anna ha annunciato la sua visita nella città dei sassi in rispondo della Belvedere di Piazza Vittorio Veneto Morandi e Signora hanno soggiornato a Matera da turisti ci sono passate molte volte sia come turista sia per fare uno spettacolo si regge nella didascalia per Anna invece questa è la prima volta ma dice che non sarà l'ultima ed è davvero tutto grazie per averci seguiti e per aver scelto la nostra informazione vi lascio con uno spazio approfondimento tratto dalla programmazione di TRMH24 buon proseguimento la CNA Basilicata cerca artigiani e lo fa attraverso un bando che prevede la contaminazione con artisti microimprenditori e giovani designer seminari laboratori residenze artistiche e lo sviluppo delle piattaforme web per il commercio online con l'obiettivo di formare nuove figure professionali attraverso il progetto Artigiani Matera prevede la partecipazione di un numero minimo di 10 artigiani lucani il presidente CNA Leo Montemurro ha spiegato che il bando dispone di un finanziamento di 107 mila euro di cui 47 mila cofinanziati dalla CNA e 60 mila da parte della regione Basilicata continua la nostra azione di porci quali interlocutori privilegiati del mondo dell'artigianato artistico il progetto Artigiani 2019-2020 ha preso avvio l'anno scorso con la vetrina ne ha in piazza Duomo in occasione del 2019 continua poi quest'anno questo è un progetto che doveva essere avviato già nel scorso mese di marzo ma insomma il problema covid ci ha costretti a ritardarne diciamo l'apertura rientra in una strategia di più ampio respiro noi stiamo preparando anche un progetto specifico da sottoporre all'attenzione della giunta regionale sul rilancio dell'artigianato artistico come pure aspettiamo con ansia la pubblicazione da parte del Comune di Matera del bando relativo all'affidamento della gestione del quartiere degli artieri che noi riteniamo debba diventare una vetrina delle eccellenze dell'artigianato artistico di Basilicata quindi un programma ampio corposo che vede sempre CNA al fianco delle imprese del settore dell'artigianato artistico così come è successo prima della pandemia con dei dati in centri e parrocchie sì assolutamente perché riteniamo che dobbiamo parlare di artigianato tornare a parlare di artigianato ai ragazzi come dire in età scolare io amo dire che dovremmo parlare di artigianato a partire dalle quinte elementari per poi proseguire con le scuole medie in modo tale da lanciare un messaggio è possibile avere un futuro lavorativo e personale di fuori diciamo di percorsi che mirino poi alla laurea anche se insomma le esperienze degli ultimi anni dimostrano che noi abbiamo artigiani del comparto artistico eccellenti che sono laureati quindi alla ricerca diciamo di una propria ispirazione personale non è mai troppo tardi per cambiare strada e avviarsi su un percorso insomma professionalizzante ricco di soddisfazioni e di gratificazione sono stati soddisfatti i partecipanti ai laboratori tenuti da Nicola Toce e Claudio Pentasuglia assolutamente sia il laboratorio tenuto presso il centro ludico integrativo socio integrativo del girasole dove c'erano tanti bambini soprattutto anche bambini non italiani che veramente hanno dimostrato di possedere una notevole manualità e si sono appassionati da subito alle toce per quanto riguarda la creazione di queste maschere in cartapesta ma anche i ragazzini è nota piacevole non solo i ragazzini ma anche signore mature di una certa età che hanno con piacere preso parte ai workshop di Claudia Pentasuglia tenuti presso la parrocchia Sant'Antonio al villaggio del fanciullo questa dimostrazione che la manualità come dire non ha età e quindi questo dimessi anche attraverso l'utilizzo delle mani è comune insomma sia ai bambini ma anche alle persone più adulte e in alcuni casi anche più mature diciamo così e allora riascoltiamo le interviste realizzate tra febbraio e marzo durante i laboratori organizzati da CNA è possibile immaginare e plasmare nuovi mondi a partire da carta e argilla? certo allora senza la carta in questo caso cioè fare cartapesta con l'argilla possiamo partire da un calco da un'idea per poi arrivare a fare l'oggetto in carta l'effetto finale sarà quello della carta pesta quindi quello che si è riprodotto con la scultura in argilla lo avremo in carta i ragazzi stanno lavorando su soggetti di da folletti da zucche che diventano folletti quindi a partire dal tema del carnevale per poi andare oltre quindi parlare di esseri che popolano i boschi come i folletti come i monacelli quindi legati alla tradizione verbale lucana prima di arrivare a questa attività pratica hai parlato a farli appassionare a questa attività raccontando delle storie come mi era stato raccontato da piccolo a me quindi partendo da una storia quindi il folletto che esce la sera quindi per andare nel bosco quindi cercare di invogliarli di di non far far pesare un lavoro vero e probabile giocare quindi era quello il mio intento la chiave di volta prima immaginarli e poi realizzarli certo sì bisogna prima partire da una da una da un'idea e poi man mano svilupparla quindi essere liberi di fare quello che ognuno di noi vuole fare piuttosto che grandi scademie hai scelto un centro socioeducativo della periferia è stimolante per te questa attività? a me questo tipo di situazione è sempre piaciuta perché sono stato bambino come tutti quanti quindi ricordo quello che facevo da piccolo quindi fatto di giocare con l'argilla quindi c'è bisogno partire da loro dai bambini di insegnare perché saranno il futuro quindi bisogna puntare su di loro quindi ho preferito loro anziché andare in altri posti abbiamo fatto questo workshop sulla frutta quindi praticamente abbiamo presentato dei calchi ho presentato dei calchi di gesso realizzati direttamente sulla frutta e dopodiché appunto realizzare questa frutta che verrà poi posizionata in un cesso ho fatto una bellissima mela rossa con bellissima foglia e adesso ho anche una bella piera per completare il cesso che stiamo realizzando tutti insieme per questa iniziativa è una zucca è stato facile? eh no un po' difficile perché è grande quindi c'è bisogno di impegno questa esperienza ti sta piacerebbe? tanto sì solo che non dura solo quattro giorni ti piacerebbe continuasse? sì tornando al bando artigiani presentato da CNA quali sono le peculiarità a chi è rivolto e poi la parola chiave contaminazione il bando è rivolto agli artigiani che vuole selezionare una decina di artigiani e creativi che intendono partecipare a questo percorso a cui CNA ha dato il via il percorso nasce sulla grande semina che è stata fatta nel 2019 rispetto a quello che è il futuro della regione Basilicata vuole sviluppare appunto questo concetto di contaminazione appunto tra l'artigianato e l'arte e la creatività in generale nel 2019 abbiamo fatto una serie di incursioni su questi temi e abbiamo lavorato molto anche con l'artigianato di tutta Italia con artigiani artisti di tutta Italia ospitando qui a Matera nella vetrina di CNA appunto una serie di esperienze adesso vogliamo iniziare un percorso per le imprese lucane che porti appunto ad incontrare l'artigiano ad esempio con il makers con il ragazzo che usa e quindi portare sia dei percorsi innovativi ma anche a cercare nuove strade legate all'arte vera e propria un aspetto importante di questa iniziativa presentata da CNA è quello della digitalizzazione noi abbiamo assistito in questo periodo di lo importantissimo la tragedia di tanti artigiani che non potendo più andare a lavorare e quindi esporre i propri capolavori si sono trovati di fronte a un buio totale un passaggio che sarebbe stato superato se avessero avuto con digitalizzazione ben avviati tipo un sito web una pagina facebook questo è per dire che oggi purtroppo non possiamo più vivere senza questi strumenti sono fondamentali per il business qualunque business uno decide di affrontare meglio per oggi per gli artigiani che hanno di poter mettere in mostra le loro opere utilizzando tutti i canali possibili immaginabili investendo soldi e somme irrisorie rispetto a quello che possono essere invece gli investimenti tradizionali e farsi conoscere da un pubblico molto ma molto vasto quindi per loro è stato un modo diverso di andare a vedere quello che sarà un futuro per loro ma per molti oggi è un presente molto forte e nel progetto vogliamo fare vogliamo esaltare quest'ultimo aspetto unire la crescita artigiana quindi professionale a quello che è quello della comunicazione cioè permettere agli artigiani stessi non solo di creare e inventare prodotti che facciano parlare ma che possano parlare con il pubblico tramite la digitalizzazione la comunicazione i web i social tutto quello che è digitale Quali sono le principali necessità emerse da parte degli artigiani dopo un periodo così particolare come quello del lockdown Le necessità sono state quelle di aprirsi al mondo perché l'artigiano è chiuso nel proprio laboratorio la maggior parte di noi artigiani materani aspettiamo nel nostro laboratorio il turista che arrivi e che faccia shopping insomma e che apprezzi il nostro prodotto in questo periodo del lockdown le nostre attività sono la nostra attività si è bloccata completamente ecco perché ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un sito web che ci portasse alla conoscenza di tutto il mondo ecco abbiamo visto che in questo periodo la gente ha fatto shopping per via online e noi siamo stati completamente tagliati fuori ecco perché prendendo la parte positiva di questo del covid del lockdown è proprio questo quello dire all'interno del del bando di aprire una piattaforma collettiva in modo da portare il nostro prodotto il prodotto lucano fuori dal dal mondo e dare la possibilità anche a chi non viene a Matera di poter acquittire al 100% artigianali a